bene allora siamo al voto della disciplina dopo questa bellissima partita fra amici da chi cominciamo? Mario Riva Teca West direi 10 si sono comportati bene? si, non ci sono stati meno falli nessuna discussione, cioè tutto perfetto, quindi 10 meritato direi anche loro si sono comportati bene tranquilla dalla partita ti piace dare i voti, di la verità? si eh si abbastanza bene, ok grazie ragazzi e complimenti, ciao ciao qui c'è un paio di carta grazie a tutti grazie a tutti